Sto testando questa mini cappa aspirante da piano d'appoggio, vediamo se funziona, ho impostato la modalità vapore, adesso quando comincerà a fare vapore vediamo se ce la fa anche a tirarlo senza farlo andare su sui pensili. Allora a velocità 1 un po' aspira ma una parte va verso l'alto, vediamo se la metto alla massima velocità. Direi che funziona abbastanza bene e dietro non ho grosse uscite di vapore, bisognerà testarla un po' meglio però il primo test direi che l'ha superato. Ora provo un attimo ad aprire il coperchietto, vediamo direi che ne tira abbastanza tutto sommato, pensavo peggio.